Grazie a tutti. 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 di avere rapporti con l'industrializzazione e tra l'altro, vabbè, qui non entro nel fatto degli allevamenti intensivi che oltre ad essere un spreco di acqua è un modo mostruoso, nazista di trattare gli animali. Ma a parte questo, io credo che noi dobbiamo insistere di più con i nostri governanti perché investano, per esempio, siccome non rende immediatamente, è chiaro perché mettere a posto la rete idrica è una cosa molto costosa ed è una cosa a lungo termine. Siccome da noi i governi durano manco un anno perché abbiamo avuto otto governi in pochi anni, è chiaro che non si investe su queste cose, si investe sull'immediato e non sul futuro. Ecco, quindi però la cittadinanza e il pubblico deve insistere. Va bene che è vero che abbiamo fatto un forum in cui gli italiani si sono dimostrati più intelligenti, più saggi dei governanti perché hanno detto no, vogliamo l'acqua pubblica. Perché l'acqua è una delle cose essenziali e non può essere in mano a dei privati. Deve essere pubblica, deve essere in mano allo Stato che potrà sbagliare, potrà fare, però per quanto sia non è lì per sfruttare l'acqua e guadagnare sull'acqua. Questa è la cosa che noi dovremmo fare e secondo me sarebbe molto importante. Oltre a questo, non so se c'è ancora un minuto di tempo o no. Un minuto, sì. No, oltre a questo mi interessava molto sentire dagli esperti che ho sentito, ho letto che ci sono dei sistemi naturali per pulire l'acqua, per esempio dei laghi, che sono per esempio le cozze. Ho sentito che l'allevamento delle cozze nel fondo dei laghi può pulire, perché le cozze assorbono totalmente anche gli idrocarburi e potrebbe essere un'idea bellissima. Mi dicevano che c'è questo esperimento riuscito ma non hanno poi trovato gli investimenti. Ecco, noi dobbiamo un po' insistere come cittadini per sollecitare i nostri governanti a, prima di tutto, a investire di più, a mettere a posto la rete ID, che poi forse a trovare anche questi sistemi naturali per ripulire le acque che abbiamo sporcato in tanti anni, di buttare, di buttare, di gettare liquame o anche veleni dentro le nostre acque. Mi fermo e credo, insomma, che sia bello ascoltare chi ha da dire delle cose con più competenza di me. Grazie, grazie Dacia per la tua testimonianza e per essere sempre al nostro fianco, anche esponendoti pubblicamente. Grazie.